Ciao a tutti ragazzi, una mutua sta proseguendo bene, stanno tutti i soggetti, ho preso una nuova femmina, una brinata, sembra intensa, ma sarebbe una semintensa questa. Qua stanno le topazze, ho separato già i maschi perché iniziavano a litigarsi, quel maschio e topazze. Comunque ho fatto questo video perché vi vorrei informare di una cosa. Sabato 21 ottobre io sarò all'internazionale di Salerno dalla mattina verso le 11, più o meno, 10 e mezza, 11, partirò e arriverò lì verso mezzogiorno. E poi quando ci sarà, quando sono le 5 più o meno tornerò. Per chi vorrebbe incontrarmi, fare due chiacchiere con me, sa anche il mio amico Emanuele Basile, che anche lui è un canale, non so se lo conoscete. Per chi vuole fare qualche chiacchiere con me, vuole parlare un poco, si vuole incontrare semplicemente con me, io sarò lì nel reparto gara e mostra, mostra scambio. Però penso che starò più nel reparto gara, però farò un poco in poco, sta un po' lì, un po' da quell'altro lato. Ora vi faccio vedere l'angla mia faccia, in modo che se qualcuno vorrebbe vedere, mi riconosce per salutarmi, se vogliono. Non è ovviamente, se volete salutarmi, e parlare un po' con me. Aspettate, se si gira la telecamera un secondo. Beh, comunque, non so perché non si gira. Comunque, questo sono io. Aspettate, mi torno a qui. Spero che qualcuno venga. Aspettate un secondo, che ho visto la casa, fa un attimo. E come vi stavo dicendo, sarei muovendo. E se qualcuno è un mio iscritto, e vorrete parlare un po' con me, discutere, oppure con i miei amici, senza problemi, io sono a posta di supposizione. E questo è tutto. Ciao ragazzi.